L'ha trattato direttamente da quella che era una delle principali punti di spigazione dei pre-rancai vitti, cioè William Shakespeare, che aveva scritto un'opera bellissima che era l'Amleto e che raccontava di una morte di lustra, la morte della povera Ophelia, che impazzita per il dolore a causa di Amleto, va al fiume a raccogliere i fiori, canto piano, grazie a tutti